L'edificio di via del Pino 7 a Chiavari, sede della scuola paritaria privata dell'infanzia della torre, è stato dichiarato inagibile. La decisione dell'ordinanza comunale è arrivata a seguito dei risultati della perizia redatta dalla procura della Repubblica di Genova, dopo che il 21 novembre scorso parte del corridoio dell'asilo era crollato, provocando danni solo materiali. Fino a questo momento l'inagibilità era legata al primo piano, dove si era verificato il crollo del pavimento, mentre l'intero edificio era stato dichiarato inaccessibile. La valutazione della procura della Repubblica di Genova ha evidenziato però numerose criticità e vulnerabilità della struttura, così il comune di Chiavari ha emesso l'ordinanza di inagibilità per tutto il palazzo. La questione tocca soprattutto gli alunni, le famiglie e il corpo degli insegnanti che frequentavano l'asilo di via del Pino. Dopo il crollo del 21 novembre l'istituto comprensivo della torre di Chiavari aveva offerto una sistemazione temporanea nell'asilo di Ribasso, una soluzione che il comune di Chiava riporterà avanti per cercare di limitare i disagi. La vice sindaco e assessora all'istruzione Michela Canepa dichiara che è stata chiesta all'ufficio scolastico l'aggiunta di una nuova sezione all'interno della scuola dell'infanzia di Ribasso. Parallelamente, aggiunge, un sondaggio tra i genitori e dei bambini ha permesso di capire le disponibilità e l'eventuale numero di esclusi, tenendo conto che i nuovi alunni dell'asilo di Ribasso potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico finanziato per la maggior parte dal comune. Allo stato attuale la fondazione proprietaria dell'edificio, l'ente morale asilo infantile, non ha ancora ricevuto la notifica ufficiale dell'ordinanza, come affermato da Guido Mottola, avvocato dell'ente.